Gli errori gravissimi sul territorio che spagano le conseguenze loro, gravissimi. Quello di fare una guerra contro i centri commerciali. Si scaldano gli animi dentro e fuori l'aula del Consiglio Comunale dove è in discussione la delibera cosiddetta tre gemme, progetto di riconversione dell'ex consorzio agrario di Via del Circuito a Pescara che vedrebbe l'applicazione del decreto sviluppo con conseguente premialità in termini di volumetrie. Mentre veniva bocciata la pregiudiziale posta dall'opposizione sulla delibera ripresentata dall'assessore all'urbanistica Marcello Antonelli, un gruppetto di commercianti di Corso Vittorio Emanuele ha fatto irruzione a Palazzo di Città per chiedere un Consiglio Comunale straordinario che parli del progetto di riqualificazione dell'asse viario del centro città che l'amministrazione vorrebbe pedonalizzare al pari di quanto già fatto su Via Firenze e Via Cesare Battisti. È arrivata al Consiglio Comunale una nutrita delegazione di commercianti in rappresentanza delle oltre 140 commercianti che hanno già firmato una petizione contro questa ventilata, chiusura, pedonalizzazione e riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. E questo perché? Perché come del resto noi riteniamo che non sia assolutamente questo il momento per sperimentare, provare a chiudere o pedonalizzare Corso Vittorio Emanuele che è l'arteria più importante di Pescara in termini di viabilità. Queste cose si fanno con il tempo, si possono fare ma ci vuole molto tempo perché tutti i cittadini di Pescara sono sempre stati abituati a venire a fare l'acquisto diciamo con la macchina lì nelle vicinanze quindi tu ce lo puoi anche portare a lasciare la macchina più lontano ma ci vuole molto tempo. Non tutti possono avere mezza giornata per fare un acquisto a volte si prende un'oretta, si scende, si compra una maglietta e si va via toglierci questo vuol dire veramente la fine già siamo in grande sofferenza, in grandissima sofferenza.